Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Ma l'ho assolimentato cieco Che intro dobbiamo fare qua Bella a tutti ragazzi, dovrei applaudire con le mani Aspetta, uno, due Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video In questo momento c'è la fisioterapista Che mi sta giustando il dito Ho tirato su Elisa l'altra sera Durante le prove, ma tu hai solo le soluzioni O io non riesco a fare le prezze O lì sono ingrazzata Ma io credo più la seconda E qui fa male Allora il video durerà tre ore Giusto per farvi capire quanta gente c'è qua intorno Tutti ad affizzare Lui c'è sempre In ogni quadratura Ciao a tutti Aspetta che ora mi fa male dall'altro lato Com'è che non mi fa più male qua sul palmo Mi fa male sul dorso Al cimitero di Elvis Sai quante dita sono nuove Ragazzi io continuo Tanto sto video non lo pubblicherò Ma infatti Grazie fisioterapista Grazie di esistere Ti regalo una settimana di vacanza Giusto Basta che ti lascio di esistere No all'undilan al bravo Quindi Grazie a tutti quanti Mi raccomando iscrivetevi al canale Commentate e condividete Tutto quanto Dato questo ci vediamo alla prossima E bella ragazzi Boom baby Ciao a tutti